Quando ti innamori, provi un sacco di emozioni forti e ti senti super felice e appassionato. È un po' come se avessi degli occhiali speciali che ti fanno vedere solo le cose belle della persona di cui ti sei innamorato, e non noti le cose che potrebbero non essere così belle. Però, dopo un po', quegli occhiali speciali iniziano a sparire, e inizi a vedere le cose in un modo più normale. Inizi a notare alcune cose che prima non vedevi, e a volte possono nascere dei piccoli problemi o discussioni nella relazione. Questo è normale, succede a tutti. È importante sapere che un po' di discussioni e problemi sono normali e possono anche aiutare a rendere la relazione più forte. Ma se questi problemi sono troppo frequenti o troppo gravi, potrebbero essere un segno che qualcosa non va bene. Curioso di scoprire quali sono questi segnali? Andiamo subito a vederli. 1. La vostra relazione è basata esclusivamente sull'attrazione fisica. Quando ti piace qualcuno, è importante che ti piaccia anche fisicamente, ma questa non è l'unica cosa che conta. È come quando trovi una torta che sembra buonissima, ma è anche importante che sia buona da mangiare. Una relazione sana richiede interessi comuni, obiettivi condivisi e esperienze insieme. 2. Non ti piacciono i loro amici. Se non ti piacciono gli amici della persona che ti piace, è un po' come quando non ti piace il sapore di una salsa su un piatto che però a molti altri piace. È normale avere amici diversi, ma se proprio non riesci a sopportare gli amici di questa persona, potrebbe significare che in fondo non avete così tanto in comune. È come se tu amassi giocare a calcio e l'altra persona amasse solo dipingere. Se non condividete interessi, può essere più difficile andare d'accordo. 3. Passate troppo tempo insieme. Se stai sempre con la persona che ti piace e non fai mai niente da solo o con altri amici, dopo un po', potresti stancarti e sentire la mancanza di altre cose. È importante avere tempo per fare le cose che ti piacciono da solo o con altri amici, non solo con la persona che ti piace. Questo ti aiuta a essere felice e a non dimenticare le cose che ti piacciono fare. Una buona relazione significa che tu e la persona che ti piace vi aiutate a essere felici e a fare cose divertenti insieme, ma anche separatamente. 4. La relazione sembra unilaterale. L'amore è come un gioco di squadra, dove entrambi i giocatori devono fare la loro parte. Se in una relazione una persona fa sempre più cose per l'altra, come fare regali o essere sempre gentile, ma non riceve altrettanto indietro, è come se in una partita uno giocasse sempre e l'altro stesse solo a guardare. Questo non è giusto e può far sentire triste la persona che sta dando di più. In una buona relazione, entrambi dovrebbero aiutarsi e trattarsi bene allo stesso modo. 5. Ti senti controllato. In una relazione sana, è importante sentirsi liberi di essere se stessi e di fare le proprie scelte. Se il tuo partner cerca sempre di controllare quello che fai, dove vai, con chi parli o come ti vesti, questo è un segno che qualcosa non va. Essere controllati in questo modo può farti sentire come se fossi in una gabbia, senza spazio per esprimere la tua personalità o per fare le cose che ti piacciono. Questo comportamento può portare a sentirsi tristi, arrabbiati o confusi, e non è giusto in una relazione. È importante che entrambi i partner si fidino l'uno dell'altro e si rispettino, senza cercare di controllarsi a vicenda. 6. Non puoi essere te stesso. In una relazione, è fondamentale poter essere se stessi senza paura di essere giudicati o non accettati. Se ti trovi a nascondere la tua vera personalità o a cambiare il tuo modo di essere per piacere al tuo partner, questo è un campanello d'allarme. Non poter condividere i tuoi veri pensieri, gusti, passioni o paure significa non vivere la relazione in modo autentico. Questo può portarti a sentirti come se stessi recitando una parte invece di vivere una storia vera. Una relazione sana dovrebbe permetterti di essere te stesso in ogni momento, celebrando la tua unicità anziché nasconderla. Se il video ti sta piacendo iscriviti al nostro canale per ricevere altri video come questo. 7. Non ti senti accettato. Sentirsi accettati per quello che si è, è un aspetto cruciale di ogni relazione. Se invece ti senti giudicato, criticato o non compreso dal tuo partner, questo può creare un senso di insicurezza e tristezza. La mancanza di accettazione può farti sentire come se dovessi cambiare o nascondere parti di te stesso per essere amato. Una relazione sana si basa sull'accettazione reciproca, dove entrambi i partner si sentono valorizzati e accettati per le loro qualità uniche, i loro difetti, i loro sogni e le loro paure. Essere in una relazione in cui non ti senti accettato può portare a dubbi e insoddisfazione, compromettendo la felicità e l'armonia della coppia. 8. Litigate continuamente. Litigare di continuo in una relazione può essere un segno di problemi profondi. Un po' di discussione è normale, ma quando i litigi diventano frequenti e intensi, può indicare che non ci si sta capendo o che ci sono problemi irrisolti. Litigare sempre può creare un'atmosfera di tensione e stress, rendendo difficile godersi i bei momenti insieme. Invece di sentirsi supportati e felici, si finisce per sentirsi tristi, arrabbiati o frustrati. È importante affrontare i problemi alla base dei litigi e lavorare insieme per trovare soluzioni. Se i litigi continuano nonostante gli sforzi, potrebbe essere il momento di riflettere sulla salute della relazione. 9. Mancanza di fiducia reciproca. La fiducia è la base di ogni relazione sana. Se c'è una mancanza di fiducia reciproca, può diventare difficile costruire un legame forte e duraturo. Questo può manifestarsi in vari modi, come il dubbio costante sulle azioni dell'altro, la paura che ti stia nascondendo qualcosa, o la sensazione che non possa contare sul tuo partner. La mancanza di fiducia può portare a insicurezza e a un continuo stato di allerta, rendendo difficile rilassarsi e godersi la relazione. È importante lavorare insieme per costruire o ricostruire la fiducia, attraverso la comunicazione onesta e il supporto reciproco. Senza fiducia, una relazione può faticare a crescere e a prosperare. 10. Il tuo partner si comporta in modo diverso con le altre persone. Se noti che il tuo partner è gentile e premuroso con te, ma si comporta in modo cattivo o irrispettoso con altre persone, potrebbe essere un segnale di preoccupazione. Questo atteggiamento a due facce può far sorgere dubbi sulla sincerità del suo comportamento. È importante osservare come una persona tratta gli altri, non solo come tratta te. Un comportamento gentile solo in certe circostanze, mentre in altre si mostra aggressivo o sgarbato, può indicare che quello che vedi è solo una maschera. In una relazione sana, è fondamentale che entrambi i partner siano genuini, coerenti nel loro comportamento sia dentro che fuori dalla relazione. Questo tipo di incongruenza può far riflettere sulla reale personalità del tuo partner. 11. Un comportamento passivo-aggressivo. Se il tuo partner si comporta in modo passivo-aggressivo, significa che invece di dire apertamente cosa pensa o prova, esprime il suo disagio in modo indiretto. Questo può succedere tramite commenti sarcastici, comportamenti ostili mascherati da scherzi, o non facendo cose importanti per dimostrare il proprio disappunto. Questo tipo di atteggiamento può rendere difficile capire cosa realmente pensa o sente e può creare confusione e tensione nella relazione. È come se invece di dire chiaramente «sono arrabbiato» o «questo mi disturba», agisca in modo da farti capire che c'è qualcosa che non va senza dirlo direttamente. Questo comportamento può essere frustrante e danneggiare la comunicazione aperta e onesta, che è molto importante in una relazione sana. 12. Il timing non è giusto. Il timing in una relazione si riferisce al momento giusto in cui entrambe le persone sono pronte per stare insieme. A volte, anche se due persone si piacciono, la loro relazione può non funzionare perché il momento non è quello giusto. Questo può succedere per vari motivi. Magari uno dei due sta passando un periodo difficile, come problemi a scuola o in famiglia, o forse hanno obiettivi diversi in quel momento della loro vita, come viaggiare o concentrarsi sulla carriera. Se il timing non è giusto, la relazione può sentirsi forzata o piena di ostacoli. È importante che entrambi siano in un momento della vita in cui possono dedicarsi l'uno all'altro senza grandi distrazioni o problemi. A volte, anche se due persone si vogliono bene, potrebbero dover aspettare o persino prendere strade diverse, se il momento non è quello giusto per loro. In conclusione. Ricordati che la perfezione è un mito e imparare a riconoscere segnali premonitori come questi può aiutarti a prendere decisioni più consapevoli per il tuo benessere emotivo e per quello della tua relazione. Ti lasciamo altri due video che potrebbero interessarti. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per altri video come questo, clicca sul pulsante iscriviti e non dimenticare di attivare la campana delle notifiche. Ciao e al prossimo video!